Addio a Ottavio Missoni, lo stilista è morto all'età di 92 anni nella sua casa di Sumirago in provincia di Varese. Il primo maggio era stato dimesso dopo un ricovero dovuto a uno scompenso cardiaco. Lunedì prossimo i funerali aggallarate. Il suo stile è inconfondibile, una mescolanza di colori e motivi geometrici ha contribuito a rendere la moda italiana famosa in tutto il mondo. Nato a Ragusa di Dalmazia l'11 febbraio 1921, Missoni aveva esordito nel settore negli anni 50, assieme alla moglie Rosita. In gioventù era stato un atleta di alto livello, vincendo otto titoli nazionali. Una famiglia unita, segnata ultimamente dalla tragedia di uno dei tre figli. Vittorio scomparso a gennaio in Venezuela mentre viaggiava su un bimotore, di cui non è stata più trovata traccia.